Abbiamo presentato insieme alla Sicilferro diversi prodotti. Per quanto riguarda la Poron siamo venuti con una linea già ormai conosciuta sul mercato chiamata Neodor, che è un prodotto polistirano espanso sinterizzato e quindi stampato di singola lastra ad alta densità. Il simbolo del nostro Neodor è il rinoceronte. Ci sono diversi animali in scala 1 a 1, tra i quali appunto il rinoceronte, che sono i simboli dei nostri prodotti. Altro prodotto, questo lanciato per il Clima House a Bolzano e qui affermatosi, è il Polar. È un polistirano espanso additivato di grafite e anche bianco, quindi un misto di due prodotti che ha una peculiarità di utilizzare anche della materia prima rigenerata, potrei dire riciclata, e ha diverse applicazioni, tra le quali accoppiata con materiale OSB, quindi un compensato marino, piuttosto che il cartongesso. Devo dire che insieme alla mia squadra siamo piuttosto soddisfatti dell'andamento della fiera, come potete notare siamo qui con uno stand di tutto rispetto, grazie anche alla collaborazione con la Sicilferro. Quando si dice l'unione fa la forza, ecco, questo è lo spirito che ci ha portato qui a Milano.